Ha un po' di giorni che Gerard Piqué si allena a buoni livelli e continua a fare progressi come accade sempre per questo tipo di infortuni. Non ho visto bene nel dettaglio il suo allenamento perché ci alleniamo contemporaneamente anche noi e lui lavora a parte. A volte guardavo però mi tengo sempre aggiornato sulla sua situazione e sui progressi che sta facendo. In questi giorni vedremo quando potrà giocare, non so se con il Celtic, comunque ogni giorno non ha fastidi, migliora, fisicamente fa sempre più cose. Questa è sicuramente la notizia più importante, a breve sarà dei nostri. Ma come dici tu, su messi è una questione personale, mi avvertiranno loro quando sarà il momento opportuno. In linea di massima comunque domani verrà e giocherà. Il fatto che non si sia allenato per un giorno non cambia davvero nulla. Non altera nulla, il fatto che hai lasciato di allenare un giorno non è importante. No, ognuno pensa alle partite a seconda delle caratteristiche dei propri giocatori. Il Celta ha dei giocatori che si adattano bene al sistema di gioco in questo momento. Poi è chiaro, noi preferiamo sempre affrontare squadre più aperte, che provino ad attaccare, così come facciamo noi, anziché quelle chiuse che poi si chiudano tutte dietro la linea della palla e aspettano soltanto il contropiede. Credo che loro non si chiuderanno per quello che ho visto fare finora, meglio anche per gli spettatori. È meglio.